Sid si svegliò alle prime luci dell'alba e guardò fuori dalla finestra. Fuori era chiaro come la luce del giorno. Gli uccelli saltellavano sui rami, cantando i loro trilli mattutini, e dai cortili dei vicini proveniva il mugito delle mucche che erano state svegliate dai loro proprietari. Il ragazzo saltò giù dal letto, guardò il nonno che dormiva profondamente e zoppicò verso il calendario appeso alla parete. Zoppicava dalla nascita, una gamba era leggermente più corta dell'altra e Sid rimbalzava involontariamente a ogni passo. Il calendario appeso alla parete riportava ancora la data di ieri e Sid, nella fretta di correggere questo difetto, strappò una foglia. Il calendario indicava ora il 3 agosto. Proprio in quel giorno, esattamente dodici anni fa, era nato. Oggi, giorno del suo compleanno, il nonno Tom gli avrebbe regalato un fucile. Questo era certo, Sid aveva notato tre settimane fa che il nonno era tornato di nascosto dal villaggio vicino con un fagotto e lo aveva nascosto in soffitta. Sid, curioso, si arrampicò subito, trovò il fagotto, lo scartò e sussultò. Una carabina! Una carabina vecchia, con il calcio incrinato e la canna graffiata. Ma una carabina! Ora sarebbe andato nella taiga come un adulto, avrebbe portato una pistola dietro la schiena. Come previsto, a colazione il nonno consegnò al nipote un fagotto impolverato e si congratulò con lui per il suo compleanno. Andiamo a sparare? Chiese Sid, esaminando la carabina. Il nonno gli versò altro latte e tagliò un pezzo di focaccia. «Lo faremo!» «Annui!» Mentre Sid e il nonno caricavano i pesanti zaini nelle auto, Sally, una ragazza magra del quartiere, corse verso di loro. «Posso venire con voi?» chiese, guardando implorante Sid e suo nonno. «Non voglio interferire!» Sid scosse la testa. «Non puoi!» disse severamente. «Stiamo andando a caccia!» «Perché non possiamo?» Improvvisamente il nonno sorrise. «Sali in macchina!» Sid voleva protestare, ma il nonno lo fermò con uno sguardo minaccioso verso il nipote. «Lascialo andare!» disse. «Qual è il problema? Non vuoi il posto!» Sid, sospirando, salì in macchina e si sedette accanto a Sally. «Ecco, ecco!» Sally tese la mano sottile e versò alcuni semi nella bocca di Sid. Lui passò dalla rabbia alla pietà, guardò Sally e sorrise. «Siete tutti seduti?» chiese il nonno, mettendo in moto l'auto. «Bene, con Dio!» L'auto si mise in moto e avanzò lentamente, dirigendosi verso il vasto mare verde della Taiga. Un'ora dopo il nonno fermò l'auto in una piccola radura, circondata su tutti i lati da cedri secolari, e disse a tutti di scendere. Sid prese la sua carabina e aiutò Sally a scendere. Il nonno stava scaricando le borse dal bagagliaio. «C'è qualcosa lì dentro!» Sally puntò il dito verso un cedro che cresceva in lontananza. «Oh, si muove!» «Dovremo controllare!» disse il nonno. «Andiamo, Sid!» E si incamminarono lentamente in avanti, con le pistole strette in mano. Sotto un enorme cedro, su un tappeto di erbe, giaceva un enorme tigre morta. Sulla sua pelle, che ora assomigliava a un tappeto sporco, si vedevano diversi grandi punti marroni. Erano segni di sparo, come aveva stabilito nonno Tom. Qualcuno l'aveva crivellata quasi a bruciapelo, senza lasciare alcuna possibilità di fuga. La tigre non era sola. Due cuccioli di tigre erano rannichiati contro il suo corpo freddo e immobile, miagolando pietosamente e aprendo le loro bocche assetate. Nonno Tom si avvicinò a loro e ne prese uno in braccio. «Portiamoli in macchina!» disse a Sid, porgendogli il cucciolo di tigre. «E prendimi una pala!» Sid afferrò immediatamente i cuccioli di tigre, si precipitò alla macchina e li trascinò nella cabina. Poi prese la pala e tornò dal nonno. Tom, senza esitare un secondo, iniziò a scavare una fossa per la tigre morta. «Chi lo sa!» rispose. «Qui spesso catturano i cuccioli di tigre e li vendono per un sacco di soldi, e la tigre viene uccisa. Forse è successo anche qui? Ma perché i bracconieri non hanno preso i cuccioli di tigre? Forse qualcuno li ha spaventati?» Il nonno infilò un grosso ramo di cedro nella fossa fresca, rimase per un po' le in piedi, come per rendere omaggio alla tigre, e poi batte le mani sulla spalla di Sid. «Andiamo», disse, «abbiamo dei cuccioli di tigre da accudire». Sid sospirò, la caccia delle vacanze era finita prima ancora di cominciare. Per quindici giorni il ragazzo e il nonno avevano insegnato ai cuccioli di tigre a succhiare il latte dal biberon. Non volevano farlo. Masticarono il capezzolo, poi cominciarono a ringhiare e a graffiare, e scapparono sotto il letto, dove rimasero a lungo, proprio come gattini spaventati. Alla fine Tom sputò e cominciò a versare il latte in un piattino per loro. Avvicinò i cuccioli di tigre ancora ciechi al piattino, infilò delicatamente il naso nel latte e loro lo bevero dolcemente, spruzzando tutto intorno. «Li terremo?», chiesessi dal nonno, guardando i cuccioli di tigre che si addormentavano dopo il pasto. Il nonno sorrise tristemente. «È improbabile, hanno bisogno della taiga, dei loro parenti. Tu saresti in grado di vivere nella taiga?» Sid scosse la testa negativamente. «Anche loro», continuò il nonno. «Non possono vivere con le persone. Cresceranno, diventeranno un po' più forti e li riporteremo indietro». Sid si sentì triste per le sue parole. Durante il periodo in cui le tigri erano state con loro, si era affezionato a loro e aveva persino dato loro dei nomi. Un cucciolo di tigre, di colore leggermente più chiaro, era stato chiamato Tim, mentre l'altro, che scatenava sempre risse, era stato chiamato Rocky. Era più audace, spesso correva in strada e spaventava i vicini con il suo sibilo minaccioso, o inseguiva le galline. «Devo metterti alla catena?» Cantava suo nonno. «Mi aspetterai!» Rocky divenne subito silenzioso, si nascose sotto il letto e rimase lì per ore e ore. Così passò l'estate e poi l'autunno. In questi mesi i cuccioli di tigre si trasformarono in vere tigri. In ottobre, quando la notte già cadeva la neve, nonno Tom decise di riportare le tigri in natura. «Prima lo facciamo, meglio è», disse al nipote. «Devono imparare a cacciare e a sopravvivere prima di essere troppo coccolati». Sid era scoraggiato. Le tigri erano diventate quasi una famiglia per lui, tornava a casa da scuola e giocava con loro. E la sera, dopo cena, si addormentavano insieme nello stesso letto. «Non potevamo aspettare ancora». Sid lo implorava. «Almeno un mese!» Ma il nonno era irremovibile. «Tra un mese la taiga sarà coperta di neve», spiegò. «No, non possiamo più aspettare». Nel loro giorno di riposo, Sid, Sally e il nonno Tom si misero a correre in macchina, riportando le tigri al loro elemento. Guardarono gli alberi che correvano verso di loro in silenzio e sospirarono. Anche Tim e Rocky, come se avessero fiutato l'atmosfera con i loro nasi sensibili, si sedettero in silenzio e si rannicchiarono ai piedi dei bambini. «Bene, eccoci qui!» annunciò il nonno, fermando l'auto in uno spiazzo familiare. «Forza, scendete!» Sid e Sally saltarono fuori sull'erba autunnale e chiamarono le tigri dietro di loro. scesero con riluttanza dall'auto e strizzarono gli occhi contro la luce intensa. «Correte!» disse loro il nonno, accarezzandoli sul garese. «Forza ragazzi! Buona fortuna!» Tim e Rocky guardarono ancora una volta le persone con i loro occhi gialli, salutarono con la coda e si precipitarono in avanti, facendo volare le foglie in aria. «È finita!» disse Sid con tristezza, guardando le figure a strisce dissolversi nel verde dei cedri. «Sono come le persone!» osservò il nonno, mettendogli una mano sulla spalla. «Un giorno anche tu lascerai la tua casa in cerca di una nuova vita!» «E io!» chiese la piccola Sally, guardando il nonno con i suoi occhi turchesi, andrò. Nonno Tom le strizzò l'occhio in modo sornione e le strofinò la guancia. «E tu!» confermò. Sid rimase in silenzio, con il volto più scuro di una nuvola. Ma allo stesso tempo si rese conto della profondità del momento e si sentì leggero e inquieto allo stesso tempo. In seguito ricordò a lungo quel momento nei minimi dettagli. Ricordava e conservava tutto nel suo cuore. Il tempo volò veloce, come un proiettile sparato da una pistola. Sid finì la scuola, superò gli esami finali ed entrò nella scuola tecnica forestale. Voleva diventare un guardiacaccia come suo nonno. Poco prima che Sid partisse, una catastrofe improvvisa, la casa di Sally bruciò e i suoi genitori morirono nell'incendio. Alcuni dissero che erano ubriachi e avevano lasciato cadere un mozzicone di sigaretta, altri diedero la colpa dell'incendio al caldo senza precedenti che durava da due mesi. Le versioni di questo triste evento erano molteplici e si riducevano tutte a un fatto. Sally era orfana. Non aveva un posto dove andare, non aveva parenti e suo nonno Tom le aveva offerto un posto dove stare. Sid partirà presto, ragionò mentre convinceva Sally. Morirei di nostalgia senza di lui. È più divertente stare insieme. Sally non dovette essere persuasa a lungo, prese alcune cose dal fuoco e le trasferì a casa del nonno. Una settimana dopo l'estate era finita, Sid andò in città e per lui iniziò una vita da studente piena di scoperte. Alla fine del primo anno, Sid aveva trovato un lavoro in città. Una delle case più ricche aveva bisogno di un assistente giardiniere per preparare i vasti terreni per la stagione. Sid decise che era in grado di svolgere il lavoro e fece domanda. Il padrone di casa gli fece un breve colloquio e Sid lo superò. Il padrone di casa disse ad Alex di tornare domani sera, gli diede una piccola caparra e andò ad accompagnarsi dal cancello. In quel momento una ragazza uscì dalla casa e guardò scherzosamente Sid. Il ragazzo sostenne il suo sguardo e sorrise. Ciao, disse e la salutò con la mano. Ciao, rispose lei, avvicinandosi. Sid, ti presento mia figlia Ida. Sid tese la mano a Ida e lei la strinse delicatamente. Ora vai dentro, ordinò Alex alla figlia. Ida finse disappunto e giù per i gradini del portico. Prima di sparire dietro la porta, lanciò a Sid un altro sguardo ambiguo. È un po' al troppo, ammise Alex mentre apriva il cancello, voglio dire ventosa. Gioventù, che ci vuoi fare? Diede un'altra pacca sulla spalla a Sid e uscì. Ogni volta che Sid lavorava in giardino con Sam, il vecchio giardiniere, Ida gli stava sempre vicino. Lui si lasciava sfuggire tutti i suoi segni di attenzione, convinto che non fosse altro che un gioco. In effetti, come poteva la ricca Ida prendere sul serio lui, un bifolco trasandato e zoppo? Tuttavia, alla fine della settimana lavorativa, quando Sid stava scavando, Ida lo avvicinò e gli fece una proposta insolita. Pensa, il mio autista è malato, disse tristemente, guardando Sid. È finito in ospedale con un ulcera allo stomaco. Sid si asciugò il sudore dalla fronte e posò la pala. E io che centro? Chiese, guardando Ida negli occhi. La ragazza si prese un momento per raccogliere i suoi pensieri. Volevo chiederti di accompagnarmi alla festa. Disse con fare ingraziante. Ti pagherò bene. Sid ignorò le sue parole e cominciò a gettare il terreno con furia, sperando che Ida lo lasciasse in pace e se ne andasse. Allora? Chiese. Sei d'accordo? Sid trasalì, alzò lo sguardo verso di lei e annui di colpo. Va bene. Sid si disse improvvisamente. Perché no? Ida Rice gli mandò un bacio e corse lungo il sentiero verso casa. La sera, dopo aver consegnato la ragazza a una grande villa dall'altra parte della città, Sid voleva rimanere in macchina ad aspettarla. Ma Ida lo tirò per un braccio. Andiamo! Sarà divertente. Sid afferrò il volante. Non voglio. Borbottò, arrossendo. Preferisco aspettare qui. Ma Ida Rice aprì la portiera e cominciò a fargli il solletico. Sid saltò fuori dall'auto e lei lo trascinò con sé. All'interno della villa la musica era già a tutto volume. Sid, che zoppicava più che mai e si guardava intorno imbarazzato, raggiunse una sedia e vi sprofondò. Balliamo! La voce di Ida giunse da dietro di lui. Dai, non essere noioso. Gli saltò addosso come una tigre e lo trascinò in mezzo alla folla che ballava. Sid si muoveva goffamente avanti e indietro, agitando le braccia, e Ida rideva guardandolo. Sei piuttosto bravo! Gridò. Dove hai imparato a farlo? Quello che accade nell'istante successivo lo lasciò intontito. Ida gli piombò addosso e cominciò a coprirgli il viso di Bach. In un altro momento lo stava già trascinando da qualche parte su per le scale, poi lungo un corridoio buio, e lo stava spingendo in una piccola tana. Sid cade su un letto basso e Ida si fiondò subito a coprirlo con il suo corpo. Questo sarà il nostro piccolo segreto, sussurrò, togliendosi il vestito. Non lo diremo a nessuno, vero? Sid era come una nebbia. Il fuoco di Ida lo bruciava e lui si infiammava come una scheggia secca. Tutti i segreti prima o poi vengono alla luce. E così fu per il segreto di Ida. Qualche settimana più tardi vomitò improvvisamente durante la colazione e il padre, capendo il problema, si accigliò. Da chi viene il bambino? Chiese, divorando la figlia con gli occhi. Di chi è il bambino? Vi chiedo. Ida, già pallida come un lenzuolo, divenne ancora più pallida. Si strinse la testa per la disperazione e poi raccontò al padre tutto quello che era successo alla festa. Alex si prese un minuto per riprendere fiato, digerendo la sua storia, poi improvvisamente scoppiò a ridere e sbatté il palmo della mano sul tavolo. Allora, Sid, sei tu quello che sta con lui? Raisa lungo, facendo cadere i piatti sul pavimento e battendo la mano sul tavolo. Ida rimase seduta a guardare con orrore la sua folle allegria. Lo sposerai? All'improvviso il padre disse a voce alta e seria, come un giudice che legge una sentenza. Se il figlio è suo, spetta a lui crescerlo. Ida tremò come una foglia. Non se ne parla! Esclamò. Non lo sposerò! Sei impazzita? Suo padre la guardò come una nuvola di tempesta. Pensi che voglia la tua opinione? Chiese minaccioso. Ho detto che uscirai, quindi uscirai, e questo è quanto. E se ti opponi, non avrai un altro rublo. Ida si rannicchiò e tacque. Era inutile discutere. Le argomentazioni vincenti di suo padre mandavano sempre in frantumi tutti i suoi argomenti. Sid, avendo saputo da Alex che stava per diventare padre, aveva preso la notizia con ironia. Allo stesso modo prese la notizia del matrimonio. Non riusciva a credere che il Alex gli avesse offerto di sposare sua figlia e la considerava una farsa. Beh, potete giudicare voi stessi. Chi sono io e chi è lei? Alex lo guardò severamente. Ti piace? Sid annui. Sì. Riconosce sua figlia? Alex continuò a interrogarlo. Sid annui di nuovo. Bene, fate come volete, Sid agitò la mano. Non dire che non ti avevo avvertito. Il padre di Ida gli strinse la mano in silenzio e lo abbracciò. Sid e Ida firmarono in silenzio e con modestia. niente cerimonie nuziali, niente feste, niente lune di miele. Niente di tutto ciò era mai accaduto. Alex affittò loro un piccolo appartamento nel centro della città, vicino alla scuola tecnica, e Sid vi trasferì immediatamente le sue cose. Ida, che in precedenza era stata allegra e vivace, ora era silenziosa e guardava il marito con un desiderio inesprimibile. Sid le rispose allo stesso modo. Non c'era nulla tra loro, né odio, né amore, né freddezza, né passione, ma solo un insormontabile abisso di incomprensione, che si allargava ogni giorno di più. Ida cominciò a uscire di casa ogni sera e a rientrare solo dopo mezzanotte, e Sid non era interessato a sapere dove e con chi passasse il tempo. La pancia di Ida cresceva e cresceva, e presto il bambino sarebbe nato, ma lei non si preoccupava affatto della salute di lui e di lei, e spesso tornava a casa ubriaca. Sid cercò di dirle che il suo stile di vita non avrebbe portato a nulla di buono, ma Ida lo ignorò. Sai molte cose, sorrise, versandosi un bicchiere di vino. Non ti importa di me o del bambino, ammettilo. Sid rimase impotente e in silenzio. Pensava sempre più spesso di tornare al villaggio. La nostalgia di casa, di suo nonno e di Sally, traboccava in lui come un acido. Non posso continuare così. Sid lo confessò al suocero. Volevi punire tua figlia, ma hai punito me. Non ce la faccio più, me ne vado. Abbassò la testa. Alex scosse la testa con comprensione e gli accarezzò la schiena. Tibiasimo, ragazzo, per averti messo in tutto questo. Alex voleva dire altro, ma cambiò idea e si avviò silenziosamente verso l'uscita. Sid si trasferì al reparto corrispondenza e tornò al villaggio. Decise di non raccontare al nonno le sue avventure in città. Il certificato di divorzio, ricevuto di recente, Sid lo nascose dal peccato nell'armadio. Perché hai taciuto così a lungo? Chiese il nonno, scrutando il volto del nipote, che era cambiato nel corso dell'anno. Pensavo che non saresti più tornato, volevo presentare un avviso di ricerca. Sid sorrise debolmente e si appoggiò alla sedia. Sì, sai, è così, scuola, lavoro, avanti e indietro. Non c'è tempo, non c'è energia. Mi dispiace, nonno. Dai, qual è il problema? Tom espirò. Sono tornato, sono vivo e vegeto, e va bene così. Cosa farai adesso? Sid guardò il nonno con attenzione. Ho intenzione di trovare un lavoro, disse. Puoi aiutarmi? Perché non dovrei aiutarlo? Il nonno disse di sì. Lo farò. Ti assumeranno anche senza il mio aiuto. C'è molto ricambio in questi giorni. I due ridono e tacciono quando sentono sbattere il cancello. Pochi secondi dopo, Sally entrò in casa. Sei tornato? Esclamò, correndo verso Sid. Ti stavamo aspettando. Dove sei andato? Sid prese in braccio Sally e la fece girare. Avevo un sacco di cose da fare, scuola, lavoro. Cominciò a versare il tè a Sally, lanciandole un'occhiata furtiva. Sid ricordò involontariamente la fredda bellezza di Ida e il confronto tra queste due ragazze diverse gli provocò un desiderio senza precedenti. Per dissiparla, Sid guardò apertamente negli occhi di Sally e si sedette accanto a lei. Forse stasera potremmo fare una passeggiata, propose, tenendo gli occhi fissi su di lei. Ti piacerebbe? Gli occhi di Sally lampeggiarono come due sette. Sono d'accordo, disse lei. Tre mesi dopo Sid si risposò. Per la seconda volta nella sua breve vita. E questa volta per puro amore. Anche Sally, che divenne sua moglie, amava Sid, lo amava da molto tempo. Si svegliava con lui ogni mattina, gli preparava la colazione, lo accompagnava e lo andava a prendere al lavoro. Si preoccupava se lui si attardava nella taiga. Una sera di giugno, mentre si stava cenando con la moglie, un'auto della polizia si fermò davanti a casa sua. Pete, il magro poliziotto di quartiere, saltò fuori. Qual è il problema? Chiese Sid, facendo sedere il suo ospite a tavola. Perché sei così intontito? Pete beve il tè in un sorso. Abbiamo un problema, Sid, un bambino è scomparso. Tutti lo stanno cercando. Sid gli chiese di sedersi e di raccontargli tutto nei dettagli. Un bambino di un anno è da qualche parte nella taiga per il secondo giorno. Dobbiamo cercarlo. Prendete una torcia e una pistola e andiamo! Uscì di corsa dalla casa, salì in macchina e accese la sirena. Un minuto dopo lo raggiunse il Sid equipaggiato. Non aveva ancora avuto il tempo di sprofondare nel sedile, quando l'auto, con un avvio stridente, si precipitò nella taiga. Di chi è il bambino? Chiese l'ufficiale distrettuale Sid. Una ragazza è venuta da noi, disse Pete, cercando di mantenere l'auto su una strada scorrevole. Ha detto di aver perso il figlio nella taiga. Viene da fuori città, si chiama Ida. Sid ha avuto un brivido dentro. Non è Smith, per caso? Chiese, ricordando il cognome della sua ex moglie. Il poliziotto si girò immediatamente verso di lui e annuì. È quella, confermò. Come fa a conoscerla? Sid finse di controllare la sua carabina. Solo una conoscenza. Sibilò. Ci siamo incontrati in una discoteca. Il poliziotto scoppiò a ridere. Non ti hai incontrato da solo in discoteca, espirò. C'era un'intera folla. Si sono ubriacati così tanto che hanno perso un bambino. A Sid non piaceva sentire queste cose, ma rimase in silenzio, ignorando le battute del poliziotto. Guardò pensieroso la strada, stringendo forte la carabina, e pensò al figlio perduto. Cosa c'è là davanti? Chiese improvvisamente Sid, notando un enorme ingorgo in lontananza. È un incidente? Il poliziotto rallentò, suonò il clacson, ma l'ingorgo non si mosse. Nemmeno la sirena è servita. Le auto rimanevano lì, come se fossero scavate nell'asfalto. Tigri, tigri! Gridò un uomo, gettandosi sul cofano di un'auto della polizia. Andiamo! Disse Sid, afferrando la sua carabina. Saltò fuori dall'auto e, senza aspettare il poliziotto, andò avanti. Quando arrivò all'inizio dell'ingorgo, vide uno spettacolo incredibile. Due enormi tigri giacevano sulla strada. Un bambino piccolo era sdraiato accanto a una di esse. La tigre lo stava leccando con la sua lingua a forma di pala come un gattino. Sid capì cosa stava succedendo e mise la carabina dietro la schiena. Tim, Rocky, chiamò. Salve, ragazzi! Le tigri lo guardarono, inarcarono la schiena e ruggirono. Che succede, ragazzi? Disse Sid con rimprovero, avvicinandosi lentamente a loro. Non vi avete riconosciuto? Io vi ho riconosciuto. Tu, Rocky, sei un grande appassionato di salsicce. E tu, Tim, sei sempre un clandestino del fegato. Le tigri, per la prima volta dopo tanto tempo, si abbassarono e si rannicchiarono quando sentirono i loro nomi. Sid si avvicinò a loro e prese in braccio il bambino che giaceva sul marciapiede. Il suo viso era bagnato di saliva e Sid lo asciugò con un fazzoletto. Grazie per aver ritrovato mio figlio, ringraziò Sid con le sue vecchie conoscenze. Sono in debito con voi! Si avvicinò a Tim, che era leggermente più chiaro del fratello, e lo strofinò dietro le orecchie. Tim gli lecò la mano e si incamminò lentamente verso il ciglio della strada. E tu, seguendo tuo fratello, non trattenere le persone! Disse Sid a Rocky. Rocky corse dietro al fratello e presto entrambe le tigri scomparvero dietro una fitta parete di cedri. Sid tornò in macchina con il bambino, si sedette sul suo sedile e cominciò a cullarlo e a cantichiargli una canzone sul naso. Il poliziotto non riacquistò subito la capacità di parlare. Che cos'era? Chiese infine il poliziotto. E lo era! Forse ho perso la testa. Sid sorrise. No, rassicurò il poliziotto. Il figlio è mio e anche le tigri sono mie. È una lunga storia. Andiamo a casa. Pete mise in moto l'auto e tornarono in paese. Quella sera, quando Sid tornò a casa e raccontò a Sally e al nonno quello che era successo, bussarono di nuovo al cancello. Era di nuovo la polizia? Sid brontolò, alzandosi dal divano. Uscì nel cortile buio, cercò il chiavistello e aprì il cancello. Vide Alex emergere dall'oscurità e attraversare silenziosamente il cancello. Poi seguì Sid su per i gradini del portico e si fermò sul fieno. Entra in casa! Sid lo invitò a entrare. La moglie ha preparato la cena. Quindi sei di nuovo sposato, disse Alex. Beh, buon per te. Grazie per aver salvato mio nipote, continuò l'ex suocero. Ida è completamente impazzita, ha le mani in pasta. Non so cosa fare con lei. Guardò Sid con tristezza. Potresti ospitare il bambino per un po', chiese timidamente Alex. Alex. Dopotutto, è suo figlio. Perché per ora? Chiese Sid. Visto che è mio figlio, può vivere con me. A proposito, come si chiama? Clyde. Rispose Alex. Esitò, asciugandosi una lacrima comparsa all'angolo dell'occhio. Senti, è tua moglie. L'ex suocero continuò. Cosa penserà di tutto questo? Sid alzò le spalle. Sembrava che le andasse bene. Rispose con nonchalance. È seduta laggiù, a fargli da babysitter. Vuoi vederlo? Alex scosse frettolosamente la testa e si diresse verso l'uscita. Beh, ti lascio fare. Arrivederci, Sid, disse, soffermandosi al cancello. Tornerò qualche volta, per vedere mio nipote, e porterò con me qualche regalino. Sid annuì in silenzio e gli aprì il cancello. Rimase per un po' là a guardare la sagoma dell'ex suocero che scompariva nell'oscurità. Poi entrò tranquillamente in casa, dove lo aspettavano le persone a lui più care.